Cioè il punto è sempre la qualità dei sistemi sanitari. In questo paese si è investito troppo poco negli ultimi 15 anni sul sistema sanitario pubblico. Quello che io chiedo è di avere più risorse per il pubblico. Lei Merlino lo sa, ci ho giocato una parte della mia campagna elettorale a chi chiedeva di venire a privatizzare qui una parte della sanità pubblica dell'Emilia-Romagna. Dopodiché le classi dirigenti a livello nazionale e regionale devono essere loro a dimostrare di essere capaci di gestire le responsabilità che hanno. Ecco, lei ha toccato un punto. Io che credo nella sanità pubblica, che vorrei più investimenti nella sanità pubblica, non riesco a capire come non si possa decidere oggi di prendere i 36 miliardi di euro del MES. Ma se non li prendiamo adesso, quando li dobbiamo prendere? Abbiamo una gestione di una pandemia sanitaria senza precedenti. Dice Stefano Bonaccini, se non ora quando può essere il suo prossimo slogan sul MES. Bonaccini, abbiamo trovato un buono slogan.